Matteo Giunti adesso è in sella Billie Jean numero 66 E come posso fare per salvare il mio cuore? E come posso fare per salvare il mio cuore? E come posso fare per salvare il mio cuore? Terzo binomio che si qualifica per il barrage, zero le penalità anche per Matteo Giunti e per Billie Jean